Mr. Gidiuli, un'altra gara complicata, però un'altra vittoria importante per un Martina che oggi ha dovuto fare a meno di De Tommaso, che non è sceso in campo per un problema muscolare e anche durante la partita di La Neve. Innanzitutto, le loro condizioni? No, precauzionalmente abbiamo messo a riposo De Tommaso per non perderlo per le successive partite. Per quanto riguarda La Neve, dobbiamo fare degli accertamenti clinici per vedere l'entità del danno. Penso che sia uno stiramento, bisogna vedere l'entità. Dunque, un 2-0 qui a Capurso al termine di una gara complessa, dove Martina comunque, anche non giocando al meglio nella prima frazione di gioco, ha inanellato la solita serie di azioni importanti. Sì, forse oggi la squadra è un pochettino bloccata perché sapevamo dell'importanza di questa gara, perché sappiamo che la prossima settimana riposa il Mola e quindi c'è la possibilità di raggiungere quel fatidico primo posto che ci siamo prefissi dall'inizio del campionato. La squadra è giocata un po' contratta. Poi sai, all'ultimo minuto ti viene a mancare l'uomo cardine della squadra, senza nulla togliere a chi è subentrato. È logico che anche sotto l'aspetto psicologico qualcuno mi ha risentito. Devo ringraziare innanzitutto la società che mi ha messo a disposizione una rosa ampia, dove ho la possibilità, anche in questo tipo di defensioni, di avere le alternative giuste. Un reparto d'attacco che quest'oggi è stato minato particolarmente, De Tommaso, La Neve, però un reparto d'attacco che si è fatto rispettare con una prova maiuscola da parte di Birtolo che prima ha sbagliato il calcio di rigore, poi ha messo a segno una doppietta, ma soprattutto ha recuperato una miriade di palloni durante l'incontro. Io per quanto riguarda Giuseppe Birtolo, lui lo sa, ho grande stima perché prima di tutto è un uomo, quindi anche di fronte a quelle difficoltà sa come comportarsi durante tutto l'arco della partita. Lo abbiamo cercato, lo abbiamo voluto a tutti i costi. Penso che lui sia contentissimo di stare con noi e lo si vede quando gioca in campo. Forse il più giovane di tutti i giovani che abbiamo. Un applauso personale lo vorrei fare a questa meravigliosa tifoseria. Non ci sta mancando il suo calore. Oggi è stata una partita sofferta e grazie a quell'apporto caloroso che abbiamo avuto i ragazzi non hanno mollato, anche in quelle difficoltà che abbiamo detto all'inizio. Siamo con Giuseppe Birtolo, protagonista principale dell'incontro nel bene e nel male perché è una gara che è iniziata, stavamo parlando con mister Gidi Uli, di una gara iniziata male, personalmente per te col calcio di rigore parato dal portiere del Capurso, poi una tua doppietta a sbrogliare questa matassa difficoltosa qui a Capurso. Sì, infatti. Il rigore chiedo scusa perché magari segnando subito la partita sarebbe andata in modo diverso. Poi ho avuto oltre il rigore anche quell'altra occasione dove ho calciato di poco alta, porta libera, però fortunatamente ho avuto quelle due occasioni e sono riuscito a fare centro. Non c'è nessuna gara semplice per il Martina e questo incontro a Capurso ne ha dato l'ulteriore dimostrazione. Si sa, purtroppo quando andiamo a giocare con le squadre, sia in casa o che andiamo a giocare noi fuori, si sa che sarà sempre una battaglia. Ci aspettano sia a livello agonistico che a livello caratteriale, saranno sempre delle battaglie. Beh, ne stavamo parlando anche col mister prima ma è ormai una bella consuetudine le solite centinaia di tifosi che vengono da Martina e vi fanno sentire sempre in casa praticamente. Sì, sì, infatti. Il pubblico non ci fa mancare niente. Il suo tifo fa tanto. Il dodicesimo uomo in campo, soprattutto in queste categorie, si fa sentire tanto. Ora dopo questa vittoria c'è da mettere la freccia perché settimana prossima c'è il riposo del Mola e si intravede quel primo posto che poi è il vostro obiettivo. Sì, sì, il nostro obiettivo è il primo posto. Il Mola riposa, dobbiamo approfittare subito di quella partita sapendo che non sarà come al solito una partita facile anche se quella squadra, il Norba Conversano, non naviga in buone acque. Comunque ce la metteremo tutta sin dal primo minuto a cercare di aggiustare subito il risultato e metterla dalla parte nostra. Siamo con mister Pricigaldo, mister del Capurso che quest'oggi ha subito una sconfitta di misura dal Martina ma ha mostrato delle buone individualità e un'ottima gestione dell'incontro seppur arrivando poco in porta però si è riuscito a fermare molto spesso il Martina. Beh, è chiaro che abbiamo giocato contro una corazzata si può dire perché anche fisicamente messi bene tutti i giocatori fisici e su un campo del genere è stato importante. Abbiamo risposto su quello che potevamo, palla dopo palla. In un paio di situazioni siamo stati anche un pizzico sfortunati. Probabilmente c'è anche un episodio dubbio, alquanto dubbio, sull'1-0 per il Martina. C'è stata una trattenuta evidente, almeno da parte nostra. Probabilmente il rigore ci sarebbe stato, puoi segnarlo, sarebbe stato bello pareggiare e magari giocarsi la partita, lo sprint finale, alla pari con una squadra sotto tutti i punti di vista veramente forte. In ogni caso, rigore non concesso a parte fino a quando il Martina non ha raggiunto il 2-0 e il Capurso ci ha tentato in tutti i modi, anche in alcuni frangenti del secondo tempo, spingendo il Martina nella propria metà campo. Sì, ho provato ad inserire ragazzi freschi, ragazzi con attitudini prettamente offensive. Ci abbiamo provato, è una squadra prettamente giovane che ha voglia di crescere, ha voglia di fare bene e queste sono le situazioni migliori per mettere in mostra le individualità e anche il gioco complesso. Quindi secondo me sono relativamente contento dalla prestazione dei ragazzi, ci abbiamo provato, ci abbiamo creduto. Ripeto ancora, abbiamo giocato contro una squadra forte e va bene così. Rispetto a quanto visto quest'oggi, forse una classifica del Capurso sottodimensionata rispetto alle possibilità di questa squadra? Ma assolutamente, guardate noi abbiamo nell'arco di questa attrazione del campionato sprecato, veramente sprecato, situazioni importanti per noi. Abbiamo sempre sofferto pochissimo, neanche contro il Mola, che pare che sia l'altra squadra, non pare, sicuramente l'altra squadra organizzata per vincere il campionato, per tentare. Secondo me, a parere mio, sicuramente ci manca qualcosa in classifica, i ragazzi giocano, i ragazzi giocano. Io dico per una partita di prima categoria forse fin troppo bene, a cominciare da oggi. Ripeto, contro una squadra ben messa in campo, forte fisicamente, con nomi importanti anche, con un allenatore di vecchia esperienza. Noi ci siamo ben comportati, ci abbiamo sempre creduto e continueremo a farlo nel nostro piccolo e proveremo innanzitutto a toglierci da una posizione che in questo momento si è fatta veramente pericolosa al più presto possibile, con la speranza di arrivare alla fine, di salvarci con un po' di tranquillità. Magari venire a Martina con la permanenza in prima categoria già confermata. Magari venire a Martina con la permanenza in prima categoria già confermata.